Allora signori, vedete Nero? Non perché siamo in campagna, siamo in città, ma c'è un blackout incredibile. Oggi bisogna del flash. Che giorno è oggi? Che giorno è? È il 13 novembre, martedì 13 novembre. È il 13 novembre, sono le 6 di pomeriggio e c'è il blackout totale. Non siamo in estate e non c'è un sovraccarico di energia, non siamo in estate, ma c'è un blackout incredibile. Poi secondo me il comunicatore ne ha finito i soldi. Le luci che vediamo sono solo quelle offerte dalle autovetture. È incredibile, è una situazione incredibile. Qua c'è un blackout incredibile. Una cosa affascinante è un quanto inquietante. Sembriamo in un paese del terzo mondo. Sembriamo in Brasile che ha problemi erettrici. Continuiamo a far vedere che è tutto buio. Ci sono qua proprio telefono. Potrebbe essere anche l'ultima volta che ci vediamo, perché potremmo morire. Ma il giurista ha paura. Potrebbe essere l'armageddon, potrebbe essere un segnale divino, potrebbe essere l'inizio della fine. Potrebbero essere tante cose. Potrebbe essere davvero l'ultima volta che ci vediamo, cari amici. Guarda un po' che mi ha fatto un po' impressionare. Fa abbastanza impressione. Voi forse non potete accorgervi, cari amici, ma fa abbastanza impressione. Perché potrebbe essere per caso un meteorite che con l'inso avvicinarsi deforma il campo elettromagnetico terrestre. E potrebbe fa poco avvicinarsi e scantarsi al suolo, ammazzandoci tutti. Oppure potrebbe essere un attacco terroristico, per esempio. Potrebbe essere l'Al Qaeda, o il terrorismo basco, o gli egiziani, la primavera catanese. Insomma, queste robe qui. Potrebbe essere... è tornata alla luce. È tornata alla luce, è peccato, non è l'ultima volta che ci vediamo, oppure sì, chi lo sa. È tutto, vuoi dire qualcosa? Ciao. Vuoi dire qualcosa? No, no. Ciao. Ciao.